Buon pomeriggio, lo avete visto nel nostro flash, è arrivata proprio pochi istanti fa la notizia della morte di Pier Mario Morosini, il giocatore, il calciatore, 26enne del Livorno, fino a qualche minuto fa, i tentativi di salvarlo, ha avuto un malore durante la partita che si giocava oggi a Pescara, Pescara-Livorno, queste le immagini, il malore durante il primo tempo, Pier Mario Morosini è caduto al suolo, poi ha tentato di rialzarsi, subito il massaggiatore ha capito la gravità di quello che stava accadendo, ecco ora tra poco nelle immagini vediamo, eccolo proprio inquadrato, il giovane calciatore del Livorno, è stato portato in ambulanza d'urgenza all'ospedale civile di Pescara e intanto vedete sul campo il tentativo di un massaggio cardiaco, poi è stato anche detto e riferito nelle agenzie di stampa che quando è stato messo sulla barella e portato fuori dal campo del Pescara era lucido, gli occhi aperti, era cosciente, c'è stato forse anche un piccolo ritardo per una macchina parcheggiata all'uscita dello stadio, in ogni caso è stato portato poi d'urgenza all'ospedale di Pescara, è stato posto in coma farmacologico e pochi istanti fa veramente la notizia non ce l'ha fatta, il giocatore di 26 anni è morto e fuori dall'ospedale ci sono i compagni, si racconta che ci siano proprio scene di pianto, urla dei suoi compagni che sono rimasti come lo vedete anche già in quell'immagine senza parole. Grazie. 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 Grazie.